arte sella è una manifestazione di arte contemporanea nata nel 1986 ed organizzata l'aperto in un bosco della val di sella nel comune di borgo val sugana in provincia di trento la rassegna ha avuto principio grazie a enrico ferrari emanuele monti beller e carlotta strobele ed è gestita da un'associazione che porta lo stesso nome inizialmente arte sella era organizzata come una biennale e si svolgeva presso la casa strobele ed il suo parco adiacente in quegli anni dopo il 1996 era organizzato in un percorso di tre chilometri sul monte armentera ed era chiamato arte natura dal 1998 inizia lo spostamento delle attività artistiche espositive presso malga costa verso la fine della vallata fino ad oggi in cui nella malga si ospitano gli artisti coinvolti nelle varie manifestazioni nelle circostanze della malga stessa si trovano dislocate circa 30 opere arte sella è un processo creativo oltre ad una semplice esposizione le opere sono principalmente tridimensionali e realizzate con foglie sassi rami e tronchi poi esposte nel parco il visitatore potrà così visionare le opere ed esplorare il bosco composto da diverse senezerbone rocce visivelli e addirittura piante monumentali in questa grande esposizione naturale all'aperto hanno portato la loro arte artisti di primo piano come marco paulini moni ovadi antonella ruggero mario brunello i mercanti di liquore e gian maria testa opera principale dell'esposizione è la cattedrale vegetale realizzata nel 2001 nei pressi di una grande radura adiacente a malga costa dall'artista giuliano mali l'opera è stata realizzata con oltre 3.000 rami intrecciati in maniera da formare la struttura di una cattedrale a tre navate attualmente conta 80 colonne alte 12 metri ed occupa una superficie di 1.220 metri quadrati la zona espositiva di arte sella si raggiunge dalla strada statale numero 47 nei pressi dell'abitato di borgo al sudano dove si trovano tutte le indicazioni imboccata la strada dopo pochi chilometri ci si troverà nei pressi della zona espositiva